Ancora fuoco a Bari e questa volta in modo ancora più sfrontato e baldanzoso. La criminalità, al di là di tutte le analisi del preoccupante fenomeno, sta alzando il tiro in modo impressionante. Nello sparare, questa volta, i sicari non hanno esitato a farlo nemmeno nei pressi di una caserma dei carabinieri. Antonio Battista, 51 anni, libertà vigilata con obbligo di firma, intorno alle 17.30, è caduto nell'imboscata dei killer che gli hanno sparato contro numerosi colpi d'arma da fuoco, mentre, a bordo di uno scooter, si stava recando alla caserma dei carabinieri di Carbonara, dove avrebbe dovuto adempiere al suo obbligo di firma. Mentre era sul suo scooter, è stato stretto da un'automobile di colore scuro, a bordo della quale viaggiavano i sicari, che hanno sparato cinque colpi d'arma da fuoco, ferendolo di striscio ad una mano. Battista è ritenuto dagli investigatori il braccio destro del boss Antonio Di Cosola, soprannominato Strascinac-Wert. E' questo il quarto agguato avvenuto a Bari nel giro di otto giorni. In tutti e quattro gli episodi sono rimaste ferite persone ritenute vicine a clan contrapposti. Gli investigatori ritengono che sia in atto nel capoluogo pugliese una guerra tra le nuove generazioni, assoldate dalla criminalità organizzata.